Buongiorno, buongiorno a bassa voce perché sono le sette e mezza di domenica mattina, devo andare a lavorare, anzi sto andando a lavorare, ma il mio fidanzato dorme, quindi shh, calendario dell'avvento, giorno 22, giorno 22, dov'è, 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 ecco, apriamola insieme e vediamo cosa c'è oggi nel calendario dell'avvento, non solito non riesco ad aprirlo, ma ci facciamo aiutare, no, un pennello, che figo, liquid lipstick in glitter, spettacolo, fammelo aprire subito, apriti, perché ci metterò lo scotch, porca miseria, fai cavolo, distrutto la scatola, no, vabbè, c'è, c'è, che figo è, raga, questo è bellissimo, troppo bello, si chiama Glitter Goals, nella colorazione Bluestone, veramente, veramente bello, bene, chiudo qua, buona giornata, buona domenica lavorativa a chi lavora come me, e ciao, ci vediamo domani.